Gunevo Safe Storage ha sviluppato una versione a doppia fila del suo sistema automatico. SafeStore Automaxi, per utilizzare al meglio le superfici di piccoli cavò. Ciò si ottiene impilando le cassette di deposito direttamente una dietro l'altra e agganciandola insieme per un facile trasporto. Quando viene richiesta una cassetta, due robot montati su un set di rotaie si muovono verso la posizione, dove il robot superiore estrae la prima cassetta dalla fila frontale. Poiché le cassette sono collegate, quella posteriore viene spostata nello scaffale anteriore, dove vengono sganciate. Il robot superiore con la prima cassetta si sposta verso l'alto, permettendo al robot inferiore di prelevare la seconda cassetta. Il robot si muove poi verso l'unità di uscita, dove viene presentata solo la cassetta richiesta. Quando il cliente ha finito con la propria cassetta, questa viene raccolta dal robot e riportata nel cavò dove viene ripetuto al contrario l'intero processo. Per saperne di più sulle soluzioni di cassette robotizzate, Guneable Save Storage sul nostro sito web. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.